Ci sono due prodotti molto sottovalutati nel campo della nutraceutica, a cominciare dal giusto apporto di vitamine oppure a cominciare dal giusto apporto di esterosimetionina. La combinazione di vitamine, soprattutto del gruppo B come B6, B12, acido folico e la metionina come sappiamo rimetila il DNA e quindi è ottimo per il mantenimento della lunghezza dei telomeri. Il same per esempio è molto utile per la disintossicazione epatica, è un antidepressivo, quindi è un prodotto veramente utile e implicato in oltre 80 reazioni metaboliche dell'organismo. Uno dei prodotti più interessanti sul mondo nutraceutico è sicuramente self-food same. Same preso a gocce sublinguale, 10 gocce due volte al giorno sotto la lingua, modula proprio questo apporto interessantissimo per migliorare la metilazione. È un donatore di gruppi metilici. Pensate quanto sia importante proporre la possibilità di assimilare le vitamine in modo sublinguale, aumentando fino al 90-95% la biodisponibilità e l'assimilazione a livello cellulare. Quindi la combinazione di due nutraceutici come il self-food e il same, sicuramente il same per il fegato, per la depurazione epatica, per il sistema antidepressivo, per la modulazione dell'umore, è veramente una possibilità che abbiamo per migliorare la qualità della nostra vita. In combinazione poi con il multivitaminico spray sicuramente mettiamo a posto la metilazione e la funzionalità delle nostre cellule, due prodotti unici al mondo, che trovate su www.selffood.it.